Un altro protagonista della serie FIAS Sena e potenza al microfono di Serie A di Lettanti.x è Max Ruggeri. Max per potenza la stagione finisce qua, però dico la stessa cosa, è un po' che ho chiesto anche a Gisio Gresta, finisce a testa altissima. Ma sì, noi abbiamo avuto un campionato abbastanza travagliato, abbiamo avuto parecchie difficoltà, però siamo riusciti ad entrare in play-off meritatamente. Abbiamo fatto una stagione con parecchi problemi però, grazie anche alla serietà della società e di molti dei giocatori in questo gruppo, ci siamo riusciti a portare avanti, è anche un buon risultato, arrivare alla terza qui a Sena a giocarci la fine alla fine contro la seconda classifica. Siamo soddisfatti, anche se poi alla fine, quando si presentano queste occasioni, non riuscire a portarla a casa, da sempre un pochino, ti lascia un pochino di rammarico in bocca. Rammarico in bocca di aver finito un'altra stagione, però è tutto sommato, anche la società si ritiene abbastanza soddisfatta di quello che abbiamo fatto quest'anno. È arrivato un po' di stanchezza nel finale, no? La tua bomba per il sorpasso, poi siete arrivati forse un po' col fiato corto per le rotazioni accorciate ed anche per il problema di falli. Onore comunque a Siena che nel finale ha dimostrato tanta freddezza. Sì, sono stati bravi, hanno fatto il loro dovere, noi chiaramente eravamo un po' corti anche per alcune assenze, alcune cose che ce l'ho capitate durante l'anno, però alla fine chi passa la serie è sempre quello che merita. Il bilancio tuo a potenza com'è dopo questa stagione? Io sono contento perché ho fatto una buonissima stagione, venivo da due anni di B2, dopo un'infortunio importante a un ginocchio, quindi per me era molto importante ricominciare a, come posso dire... A sentirti giocatore forse? Ma sì, ma no, quello mi sentivo anche io, però a competere diciamo con un livello discreto, perché la B2 è veramente abbastanza basso. Però sono soddisfatto anche perché penso di aver fatto un'ottima stagione, quindi l'anno prossimo di poter competere ancora meglio.